A questo punto le dimostra di non avere una sorta di delusione nata soprattutto da questi ultimi giorni da parte del centro-destra. Sì, perché comunque non era il progetto iniziale per cui ho lavorato tanto in questo tavolo alternativo appunto con la Ciatarsi, Maria Antonia Cucuzza e Giancarlo Danna dove si pensava di creare appunto questo centro-destra con figure nuove per proporsi alla città come alternativa appunto alla novità grillina e a una giunta a Seri dove abbiamo visto persone che hanno fatto già parte anche di vecchie amministrazioni. Deludente perché purtroppo a volte non vengono premiate le figure che nel loro percorso politico hanno avuto coerenza e alla fine si cambiano le carte in tavola lasciandole fuori o comunque portandole all'esasperazione andando anche ad intaccare un po' quella che è la dignità oltre politica anche umana. Attualmente qual è la sua posizione? La mia posizione naturalmente è quella di non votare sicuramente la sinistra perché non mi appartiene sarò tutta la vita sia come ideali sia col cuore per il centro-destra ma sicuramente non andrò a votare l'Ucciatarsi per questa delusione molto grande per questo progetto che è svampato non per mia volontà ma sicuramente per poco polso da parte del Cagnato Sindaco. Un altro colpo basso che ha ricevuto per quanto riguarda anche le provinciali? Sì quella è stata una delle tante cose dove ho dovuto abbozzare il colpo proprio per il bene appunto del centro-destra in cui sono stato diciamo tra virgolette tradito dove mi era stato promesso il voto e poi mi è stato tolto ma io sono una persona che sinceramente chi mi conosce lo sa bene non guardo le poltrone non ho bisogno di questo ho fortunatamente il mio lavoro che mi impegna tanto ma era la possibilità di dare a Fano quello che si meritava appunto un progetto nuovo con gente nuova gente che ha voglia di fare per il bene della città. Grazie. Grazie.